Buongiorno FTO Online, moderato tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, Fuzzimib in crescita dello 0,4% intorno ai 22.050 punti, siamo ancora con il testa spalle ribassista completato da alcune sedute che pesa sul mercato, i prezzi hanno cercato recentemente di riportarsi al di sopra della neckline del testa spalle, non ci sono riusciti solo sopra ai 22.050, la figura ribassista verrebbe negata, fino a quel momento questa fase che si è sviluppata dal minimo del 2 dicembre potrebbe assomigliare ad un flag, ovvero sia una figura di continuazione della tendenza ribassista vista dai massimi di fine novembre e sotto area 21.9 c'è il rischio di scendere almeno fino ai 21.500 punti. Molta attenzione sul mercato americano, in particolare sul Nasdaq, nella seduta ieri c'è stata una brusca flessione dopo che l'indice aveva raggiunto un nuovo massimo storico, questo è il grafico del Nasdaq composito e vi avevo già segnalato ieri nel video che era sul future Nasdaq 100 in via di definizione una figura bearish and gulfing, la stessa figura la troviamo completata a questo punto sul Nasdaq composito, vi ricordo sempre che sui grafici a candele quando compare una figura ribassista o rialzista è necessario poi che la figura trovi conferma e questo accade di solito con la violazione di uno dei due estremi, ad esempio nel caso dell'impiccato che era venuto fuori il 2 settembre, non basta la presenza dell'impiccato per dire che sta per partire un trend ribassista ma serve la violazione della sua base, quindi del minimo della candela per confermare l'avvio di una fase negativa, pertanto attenzione perché solo sotto i minimi di ieri a 12.290 avremo una conferma che è partita una correzione di tutto il rialzo che abbiamo visto nelle ultime settimane. Cosa potrebbe accadere? I prezzi potrebbero tentare un rimbalzo, attenzione perché nel caso che si realizzi una candela molto estesa come quella di ieri è possibile che il rimbalzo vada a interessare solo il 50% di ritracciamento della singola candela, in questo caso quindi i 12.450 punti circa per poi riprendere il ribasso. Il ragionamento di fare, di calcolare i ritracciamenti sulla singola candela funziona molto bene, questo ad esempio è il ribasso che si era sviluppato il 9 di novembre, se io calco i ritracciamenti su questa candela, vedete che il 50-61,8% di ritracciamento della candela quanto è stato significativo nel corso della fase di ripresa che c'è stata e infatti i prezzi sono saliti per alcune sedute sul 50-61,8% e hanno oscillato senza riuscire a rompere, poi quando hanno rotto il 61,8% è partito nuovamente il rialzo, quindi questo ovviamente non significa il fatto di calcolare i ritracciamenti che un rimbalzo non possa superare l'area di resistenza, quello che vi dicevo è che se l'area di resistenza non viene superata c'è il rischio di una nuova ondata ribassista, ovviamente se dovessimo salire tra 12,450 e 12,5% al di sopra di quei livelli allora in quel caso riprenderebbe il trend rialzista. Pertanto ricapitolando, sotto 12,290 segnali di debolezza abbastanza grave, sopra 12,480 invece il brutto segnale derivante dalla presenza del Berish and Galfing verrebbe negato. Che cosa è stato che si è mosso principalmente ieri? Ho occhi puntati su Facebook e sulla possibilità che vengano intentate delle cause come la motivazione sarebbe quella di una situazione di monopolio dovuta all'acquisizione di altre società, il titolo si muove dai minimi di marzo all'interno di questo bel canale crescente però ormai è da un po' di tempo che non riesce più a risalire oltre la linea mediana del canale, questa è la mediana, vedete attorno alla mediana si sono disegnati i massimi del 12 ottobre e del 5 novembre e ovviamente anche del 12 ottobre e del 5 novembre, poi i prezzi sono scesi a toccare la trend line di base che coincide in questa fase con la media esponenziale 50 giorni. Ieri c'è stata una violazione in 3 day di questo duplice supporto, il rimbalzo ha permesso poi visto prima della chiusura di rientrare al di sopra del supporto, se dovessimo scendere di sotto l'area 2,75 dollari grave segnale di debolezza, quindi 2,75 dollari è la quota da tenere presente come riferimento di supporto quindi sotto quei livelli ci sarebbe effettivamente da avere paura, però fino a che stiamo sopra 2,75 nulla vieta che questi siano dei minimi di periodo e che il titolo poi cerchi di riportarsi verso la linea mediana del canale. Guardiamo gli altri titoli più significativi del comparto dei FANG, quindi Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix e Google, andiamo a guardare Apple che trovo qua. Anche su Apple abbiamo una bella linea di tendenza che sostiene il rialzo e che coincide con la media mobile esponenziale a 50 giorni, i due supporti sono a 117,40 circa, c'è una resistenza orizzontale di breve abbastanza evidente qui intorno ai 126 dollari, sopra quei livelli ci sarebbe la possibilità di tornare a vedere il record di settembre a 138 circa, se invece dovessimo scendere al di sotto di area 117 ci sarebbe da iniziare a avere paura perché potrebbe partire una correzione più estesa di tutto il rialzo precedente, vi ricordo sempre che le correzioni si sviluppano in tre segmenti e in questo caso abbiamo già visto una prima fase correttiva che si era disegnata dal massimo del 2 settembre, una seconda fase correttiva, ora bisogna capire se questa prima fase correttiva che si è sviluppata effettivamente in tre segmenti, ve li vado ad evidenziare, c'è stata una prima discesa, una reazione e una seconda discesa, quindi potrebbe essere questa già la fase correttiva completata, però questa fase correttiva potrebbe essere anche solo il primo elemento invece di una fase correttiva più complessa, quindi questo ribasso alla fine si conterebbe in un elemento singolo, questa seconda fase potrebbe essere il secondo movimento della correzione alla quale mancherebbe quindi un terzo elemento per poi completarsi. Per capire quale delle due situazioni la più probabile sarà interessante vedere la tenuta di questi 117 dollari, se fino a che quel supporto tiene le prospettive restano di rialzo, quindi vorrebbe dire che la fase disegnata degli ultimi mesi è una semplice preparazione ad una nuova salita, se invece il supporto alla linea verde dovesse cedere, in quel caso diventerebbe probabilmente uno scenario dove manca ancora tutta una fase ribassista che potrebbe avere un'ampiezza simile alla prima per completare l'elemento correttivo e quindi vorrebbe dire tornare sul 50% di retracement dell'ultima salita. Guardiamo rapidamente anche Alphabet e quindi la compagnia che è legata a Google, la casa madre di Google, i prezzi si muovono in questo canale crescente, nelle ultime sedute c'è stata la comparsa di questo shooting star il 3 dicembre, una candela che quando fa la sua comparsa molto spesso indica all'inizio di una fase ribassista che potrebbe anche essere estesa, vedete qui che cosa è successo a febbraio di quest'anno, effettivamente un certo ribasso c'è già stato, ieri abbiamo visto anche una discreta accelerazione, questa è la media a 100 giorni, mettiamo la 50 e così abbiamo la stessa media che abbiamo utilizzato negli altri grafici, ma mettiamo anche la 20 giorni che è la prima media e la tracciamo come esponenziale, che è la prima media che i prezzi devono rispettare per mantenere l'intonazione di breve positiva, vedete la media è stata toccata nella seduta di ieri, anche questa la disegno come esponenziale, io preferisco le medie esponenziali rispetto a quelle semplici perché le trovo che i prezzi si adeguino meglio a questo tipo di riferimento, quindi sotto la esponenziale 20 giorni a 1768 circa c'è il rischio di scendere fino a 1691-1692, fino a che invece 1768 tiene, il titolo potrebbe tornare nella parte alta del canale verso i 1900 dollari. Infine diamo un'occhiata a Tesla, ieri come sul Nasdaq per Tesla è comparso questo bearish engulfing, le ultime due candele sono un pattern in cui la seconda incorpora la prima invertendo nel segno, quindi una figura ribassista, ripeto quello che ho detto per il Nasdaq, se c'è la violazione della base del pattern, quindi la discesa di sotto il minimo di ieri a 5,88 il pattern viene confermato, sotto 5,88 secondo me c'è il rischio di tornare verso i 500 dollari, fino a che 5,88 tiene invece la tendenza positiva resta confermata e a quel punto si può salire ancora con obiettivi che sono abbastanza incerti, ovviamente siamo sui massimi storici e è difficile dare un target, però sappiamo che qui c'era stata questa figura di forma triangolare che aveva interrotto il rialzo, il target del triangolo è dato alla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura, in questo caso il primo target è già stato raggiunto, ma era esattamente coincidente con il massimo del 30 di novembre, quindi quello era il primo target, però una volta superato il primo target si può guardare al secondo che è dato dalla proiezione dell'ampiezza del triangolo per 1,618 volte e quindi si posiziona intorno ai 714 dollari, pertanto sopra i massimi di ieri target a 7,14, guardiamo i ritracciamenti della singola candela di ieri visto che vi ho spiegato quanto siano importanti su Tesla, pertanto prima di poter dichiarare lo scampato pericolo i prezzi dovranno salire al di sopra almeno di 6,21, meglio ancora di 6,29 dollari, sopra 6,29, 6,30, si potrebbe non solo ipotizzare il test di area 6,54, ma come vi ho detto anche il ritorno, il movimento in area 700 dollari. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.